Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Parola all'esperto ed è oggi per me un piacere ospitare Simone Cavigli, collaudatore di Fibraottica, ma anche nuovissimo divulgatore di temi legati alle telecomunicazioni e soprattutto alla Fibraottica qui su YouTube. Quindi innanzitutto, ciao Simone, benvenuto. Ciao, grazie di avermi invitato, insomma fa molto piacere essere qua a questa intervista. Grazie mille a te, anzi fa molto piacere per me vedere insomma nuovi esperti di telecomunicazioni che si affacciano anche al mondo della divulgazione qui su YouTube, quindi sono veramente molto contento di questo. Prima di cominciare, di andare per l'appunto a parlare di Fibraottica e tante altre belle cose, ti chiederei di presentarti un po', di dirci un po' chi sei e di cosa ti occupi. Sì, io sono Simone Cavigli e ho lavorato, insomma lavoro nel mondo delle telecomunicazioni da circa 9-10 anni, ho iniziato per circa 7 anni lavorando in un suo appalto, quindi proprio addetti a lavori, occupandomi come assistente tecnico di seguire diciamo chi posa cavi in fibraottica e chi effettua le giunzioni, quindi tecnici giuntisti, a cui organizzavo il lavoro e lo seguivo e poi mi occupavo nella stessa azienda anche di collaudi di impianti in fibraottica, quindi per la verifica della qualità di impianti e la certificazione verso i clienti finali, che potrebbero essere Fastweb, Telecom, eccetera. Da circa due anni poi mi occupo anche di formazione per un'azienda che si chiama Fibernet di Roma, di Formello precisamente, che è un'azienda che produce sia elementi ottici per le telecomunicazioni, cavi o comunque tutto quello che è utile per effettuare le lavorazioni, ma anche a un'academy e quindi insieme a loro, ai formatori che sono già presenti, mi occupo santuariamente di aiutarli insomma per i corsi di formazione riguardanti gli strumenti di collaudo. E da circa tre anni poi il mio lavoro diciamo a tempo pieno, sono film manager di un'azienda di telecomunicazioni. Ok, ok, bene, 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 quindi un'ottima esperienza già nel settore e oggi con te parliamo, come detto, di fibra ottica e in particolare di un aspetto molto interessante secondo me che non è soprattutto, ecco, magari noto a tutti, ossia la cosiddetta qualità della fibra ottica. Quindi innanzitutto io ti chiedo, che cos'è la qualità della fibra ottica? Sì, diciamo partiamo dal presupposto nel dire che la fibra ottica ormai saranno una trentina d'anni più o meno che viene utilizzata nelle telecomunicazioni e agli inizi veniva utilizzata per le reti di trasporto, quindi per i collegamenti lunga distanza tra le varie città, le varie centrali, esempio Roma, Milano, eccetera. Adesso, ormai negli ultimi anni, viene sempre più spesso utilizzata anche nelle reti di accesso, quindi nella parte proprio che collega ai cittadini, proprio gli utenti finali che possiamo essere anche noi due, quelle reti appunto effetti spianca. Sì, speriamo, io non ancora, ma speriamo. Sì, anche io lo stesso non ancora, però ci crediamo. Certo. E quindi in pratica più gli apparati di telecomunicazioni hanno, insomma c'è più necessità di banda da parte degli utenti finali, c'è bisogno anche che per il corretto funzionamento degli apparati sia necessario rispettare tutti i parametri di qualità della fibra ottica, quindi non deve essere solo rispettato il fatto che, diciamo, questo impianto funziona, così per dire, quindi si accende l'impianto, diciamo, ma ogni elemento della rete deve rispettare il limite di attenuazione, il limite della caratteristica che ci interessa, riferita a quell'elemento. E quindi per valutare questa qualità si utilizza una serie di strumenti a seconda della tipologia di impianto e di quello che dobbiamo verificare, insomma. Ok, infatti nel corso di questa intervista andremo proprio a vedere quali sono tutti questi elementi, quali sono anche un po' le, diciamo, i parametri, ecco, che dobbiamo tenere conto, eccetera. Ma la prima cosa, ecco, che vorrei capire è che cosa si usa poi effettivamente per misurare questi parametri e per valutare quindi la qualità di questi apparati. Certo. Allora, di strumenti ce ne sono molti, diciamo, quello più utilizzato nelle reti, anche FTTH, quindi utilizzato nelle reti più classiche, quelle che sono a portata di tutti, diciamo, è lo TDR, che sarebbe detto in italiano, riflettometro ottico nel dominio del tempo, che in pratica è uno strumento che permette, lanciando un impulso di luce nella fibra ottica, di ricevere indietro una serie di informazioni utili, che rispecchiano poi ogni elemento ottico nella rete, quindi che siano connettori, splitter, eccetera. Diciamo, poi lo vedremo anche dopo nei grafici, nell'asse delle X, scusami, nell'asse dell'Y, ha IDB, quindi diciamo proprio l'unità di misura che riguarda l'attenuazione nella fibra ottica, nell'asse delle X ha la distanza, quindi ha la possibilità di identificare, esempio, a un chilometro, un elemento ottico, che ovviamente ci torna comodo sia per sapere cosa c'è a un chilometro, se è un problema, se è qualcosa che avevamo previsto, e ovviamente che perdita ha, quindi che attenuazione ha, o anche altre caratteristiche che vediamo poi, insomma. Quindi lo TDR è lo strumento più utilizzato. Ok, quindi effettivamente è come se mandassimo una sorta di segnale di test, ok, all'interno della rete in fibra, e questo ci permette di capire che cosa c'è e soprattutto che livello di qualità hanno i diversi, ok, i diversi apparati che troviamo. Ecco, quindi a proposito di questo, quali sono gli apparati che possiamo trovare all'interno della rete? Magari facciamo una sorta di elenco iniziale per capire quali sono e poi a cosa servono e che caratteristiche devono avere. Certo. Ah, diciamo lo TDR rileva due tipi di elementi, mettiamola così, di eventi, chiamiamoli, che sono gli eventi riflettenti e non riflettenti. Quelli riflettenti, proprio, cosa dice proprio la parola, è un evento che riflette indietro la luce, quindi l'impulso che manda il nostro TDR dentro la fibra ottica, e non riflettenti quelli, insomma, che non rimandano indietro la luce. E questa caratteristica di mandare indietro il non permette appunto di riconoscere l'elemento nella rete. Di base gli elementi sono pochi, sono i connettori, quindi come se fossero i connettori LAN, quindi dove noi abbiamo bisogno di avere un qualcosa da staccare, attaccare, a nostro piacimento viene messo un connettore, che è molto facile, stacchi, attacchi e cambi destinazione, insomma, della fibra ottica. Ok, quindi c'è una sorta di attacco facilitato della fibra? Sì, 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 molto semplice, proprio come un RG45, appunto come il modem. E poi ci sono, altri sono eventi non riflettenti, che sono le giunzioni a fusione, e in pratica sono, diciamo proprio, la giunzione a fusione di una fibra ottica, quindi l'unione tra due fibre ottiche. Ad esempio, quando una bobina di cavo, mettiamo 3000 metri, finisce, ovviamente io devo andare a mettere una muffola, che è in pratica un box che protegge queste fibre ottiche, e all'interno di questa muffola vengono giuntate le varie fibre ottiche. E considerando ovviamente che i cavi sono anche magari da 396, è anche una cosa abbastanza complessa, capire quale giuntare e con quale giuntare, perché ovviamente ogni fibra ottica è numerata, e quindi ognuna ha un numero, un colore, una riga diversa, è anche difficile distinguerle. In pratica è proprio l'unione tra due fibre ottiche, con la giuntatrice a fusione, che è uno strumento sempre che viene usato. Poi un altro elemento sono gli splitter, che sono praticamente di diramatori ottici, quindi permettono dal segnale che passa in una fibra di essere diviso in N fibre, che possono essere da 1 a 2 a 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, eccetera. E ovviamente è un elemento che come caratteristica principale è il fatto di introdurre un'attenuazione molto elevata, e quindi deve essere valutato bene quale splitter mettere nella nostra rete. Ok, perfetto, perfetto. Abbiamo fatto una bella panoramica di quello che possiamo trovare, delle informazioni che possiamo ricevere da questo TDR. Quindi, come hai accennato te prima, andiamo a vederlo, no? Quindi in prima persona ci hai preparato dei grafici in modo tale che riusciamo a capire insieme cosa possiamo leggere, in base a che cosa, sappiamo che lì ci trova un connettore, si trova uno splitter, una giunzione a fusione, insomma. Vediamo un po' e facci un po' entrare in questo mondo insieme a te che lo conosci molto bene. Allora, vabbè, questa qui diciamo è una classica misura ottica acquisita con un TDR appunto. di una rete FDTH. Ah, per capirlo, semplicemente, come avevo detto prima, insomma, in questo asse qua abbiamo i dB e nell'asse delle X, insomma, i chilometri. Quindi vediamo che ovviamente lo TDR rileva in automatico una serie di eventi che possono essere sia giusti che sbagliati. Insomma, non è detto che li rilevi subito bene, che capisca cosa sono. Ok, quindi scusami, abbiamo l'attenuazione sulla Y e la distanza, in sostanza, sulla X. Ok. Sì, 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 sì. In pratica qui vediamo che quelli che sono una sorta di picco è un evento riflettente, una sorta di montagna, mettiamola così, è un evento che riflette la luce indietro e come avevamo detto prima sono connettori. Quindi qui sappiamo che a zero metri sarà dove lo TDR viene collegato con la nostra terminazione, quindi ad esempio nelle centrali, nei pop, ci sono una sorta di cassetti ottici, una sorta di patch panel, in cui ci sono vari connettori ottici e noi andiamo a collegare il nostro TDR su una porta che ad esempio va poi a casa di un utente e quindi abbiamo un connettore ottico in quel caso. Ok. In questo caso vediamo che l'evento viene proprio rilevato e ha delle caratteristiche, che ad esempio questo 1,246 dB significa che quel connettore lì ha un'attenuazione, ha una perdita di 1 dB e 2, per esempio. Ok. Poi abbiamo, andando sempre da sinistra verso destra, andando avanti diciamo nella misura ottica, nella nostra fibra ottica, vediamo che a 127 metri c'è qualcosa che introduce un'attenuazione di 5,3 dB. Questo sapendo che è una rete FDTH e non essendo un evento riflettente perché non fa il picco, il classico picco, possiamo dire con certezza che questo è uno splitter. Ovviamente se l'abbiamo realizzato noi sappiamo che c'è uno splitter più o meno a 100 metri, con la misura ottica riusciamo a dire precisamente a 130 metri dalla centrale. Ovviamente questo, lo TDR è veramente utile perché anche in fase di guasto, di manutenzione in generale, se tu sai che lo splitter è a 130 metri e ti si rompe a 129, certamente sarà rotto proprio nei pressi dello splitter. Mentre se non avevi la possibilità di effettuare una misura ottica e ti si rompeva a 100 metri, magari se avevi solo la misura metrica potevi sbagliare, non sapere dove cercare il guasto, insomma. Ok, ok. Continuando poi più avanti, abbiamo sempre un altro picco, quindi un altro connettore, che in questo caso, poi dopo vedremo cos'è, lo spiego dopo, e anche questo attenua un dB2. E poi dopo abbiamo una serie di giunzioni a fusione, che differiscono dallo splitter semplicemente per il fatto che non hanno questa attenuazione qui. Quindi solitamente le giunzioni a fusione si accetta una sorta di attenuazione intorno agli 0,1, quindi questi qui hanno una paresa parecchio elevata, perché 0,6-0,5, quindi è una paresa piuttosto elevata. Poi abbiamo un altro connettore a 390 e un altro connettore a 476, e poi la nostra misura ottica, diciamo, finisce. In pratica sui reti FTTA, misurando dalla nostra centrale, quindi dal nostro punto 0, abbiamo una cosa un po' particolare, e che rende anche di difficile caratterizzazione una rete in fibra ottica. Cioè che passando dallo splitter, esempio, una fibra diventa 8 fibre, per esempio, da 1 a 8. Se le varie fibre che vanno ai vari utenti sono già terminate dall'utente, noi avremo una sorta di moltiplicazione dei picchi, quindi dei connettori. Infatti noi vediamo addirittura 3 connettori, che sono questi 3 qui, 1, 2 e 3. Questi 3 connettori sono proprio 3 utenti, quindi la borchia ottica che hanno proprio dentro casa o fuori casa, in facciata, dipende, e vengono visualizzati tutte e 3, e questo rende molto difficile il riconoscimento dell'utente effettivo. La cosa bella, diciamo, è che nelle reti FDTH oggi vengono utilizzati molto dei sistemi di monitoraggio che permettono, in fase di acquisizione, in fase di collaudo, che sono praticamente dei apparati, come se fossero di OTDR, apparati in centrale, che monitorano 24 ore su 24 la rete, e quando c'è un guasto esce un allarme. Ora faccio vedere una misura per far capire. Ok, quindi come se 24 ore su 24 fosse lanciato, diciamo, il famoso segnale di test che dicevamo prima, per tenere appunto monitorato 24 ore su 24 il comportamento della rete. Ok? Sì, e la cosa bella ovviamente è che in fase di collaudo, quindi mentre, cioè, non in fase di collaudo, in fase di costruzione della rete, esempio, tu vai, installi un ROI, insomma, qualcosa in facciata o interrato, insomma, dell'utente, una nostra terminazione da cui poi ripartirà la rete verso l'utente, e diciamolo taghi, chiamiamola così, viene detto, gli dice al nostro sistema di monitoraggio, a 1200 metri ho l'utente di via Roma 1, a 1326 l'utente Roma 2, quindi mentre costruisci la rete taghi i vari elementi, i vari picchi. Quindi nel momento in cui ti scompare uno di questi picchi, al nostro, insomma, al SOC, al sistema, insomma, al personale che gestisce la manutenzione, insomma, sia riferita alla manutenzione dei, insomma, sia della rete che dell'FDTH, di tutto, insomma, gli arriva questa allarme e ovviamente mandano in tempi anche sceleri i tecnici per risolverli. Quindi è una cosa piuttosto sicura per gli utenti finali questa. Certo, perché è come se in un certo senso cercassimo di prevenire, no? Cioè, più che prevenire, diciamo, mi accorgo quasi in contemporanea con l'utente che c'è un problema. Nel caso in cui l'utente magari mi chiama e mi dice, guarda, non mi va la connessione, io dall'altra parte lo so già. Sì, no, già lo sai. Eh, esatto. Già lo sai, sì, sì, perché è immediato, arriva proprio un allarme nei computer, ovviamente, e avverte che il picco in via Roma non funziona, ad esempio. In questo caso, ovviamente, se ti scendono tutti i picchi, vuol dire che è sempre rotto prima dello splitter, perché se ti si rompe dopo lo splitter, magari hai tre o quattro cavi che partono e va ognuno a un utente diverso. E quindi sarebbero tre o quattro cavi diversi. Se ti scadono tutti, vuol dire che è rotto o proprio dove è lo splitter o prima dello splitter. Quindi è un problema più serio perché, diciamo, è nella rete primaria. Ok. Mettiamolo così. Ma questi casi in cui il picco, diciamo, scompare, no, quindi c'è un problema, cioè sono problemi, diciamo, grossi o sono cose che capitano anche con una certa frequenza? No, no, capitano con una certa frequenza perché, diciamo, anche, proprio parlando di qualità della fibra, un problema molto grave è la pulizia dei connettori ottici che, anche connettori ottici, se non vengono puliti a forza di staccare, attaccare, si portano dietro magari i vari deteriti, danneggiano altri connettori, magari si raffiano, fanno una serie di crateri nei connettori, perché questi proprio si danneggiano talmente tanto che dopo un certo tot non riescono più a rendere accessibile la rete, quindi crea un guasto. Ok. Di base sulla rete FDTH molti guasti vengono causati dai connettori ottici danneggiati. Oppure magari qualche utente che cade sopra la fibra, cose di questo tipo, ma solitamente non è molto guastabile come rete. Succede perché capita, però rispetto al rame è molto di meno, ovviamente. Chiarissimo, chiarissimo, certo, certo. No, è molto interessante, insomma, i dati che si riescono a tirare fuori da questi grafici, soprattutto il discorso del monitoraggio, quello è sicuramente una cosa che anche a livello di cliente finale, insomma, è una cosa che è anche bella da sapere, secondo me, perché è un bel vantaggio, ecco, sapere che dall'altra parte sanno già che c'è un guasto e possono subito intervenire è super, super interessante. Ok, dai, allora andiamo verso la conclusione di questa intervista, abbandioniamo, diciamo, ecco, questi grafici e appunto abbiamo parlato di elementi posizionati all'interno delle reti, soprattutto appunto dell'architettura di rette FTTH, eccetera, quindi io ti faccio questa domanda che probabilmente viene spontanea, perché la cosa è, noi conosciamo benissimo Flash Fiber e Open Fiber, no, i due, diciamo, operatori più famosi a livello di infrastrutture FTTH, ecco, in base a che cosa questi due operatori decidono di posizionare questi elementi che abbiamo detto, cioè in base a quali necessità uno magari decide di inserirlo dopo tot chilometri o prima o dopo, o splitter più grandi, più piccoli, insomma, se puoi dacci, diciamo, una visione un po' di insieme sul come, sui criteri, ecco, di posizionamento di questi elementi. Vabbè, diciamo, dobbiamo considerare il fatto che Open Fiber, ad esempio, è un operatore wholesale, quindi condivide la rete con tutti e quindi ovviamente aveva la necessità di introdurre gli armadi che avessero i splitter condivisi per i vari operatori e quindi la scelta è stata, diciamo, penso obbligata sul posizionare degli armadi, però di base l'architettura di rete FTTH è più o meno uguale per tutti, gli apparati sono sempre gli stessi ad oggi, semplicemente viene scelto quanto vuoi dividere la rete in base a che tipo di architettura vuoi scegliere, però se ad esempio vuoi scegliere di dividere la rete in 64 parti, per esempio, utilizzando più serie di splitter, è fattibile in quel modo lì, però il posizionamento poi viene di conseguenza perché dove decidi, diciamo, di creare la tua rete secondaria, quindi proprio la parte che va verso gli utenti finale, introduce, diciamo, uno splitter di base, se no dal pop posi, dalla centrale posi cavi dritti finché non decidi che, ad esempio, sei vicino a tante unità immobiliari e alla dici, qui ci metto questo splitter, insomma, e da quel punto lì viene poi diviso per le varie unità immobiliari, quindi è semplicemente una scelta progettuale, poi gli apparati sono sempre gli stessi. Ok, ok, quindi è una scelta progettuale sia in base appunto ai clienti che devono aggiungere in quella particolare zona, sia immagino una sorta di trade off, diciamo, tra l'attenuazione e poi quanto cavo effettivamente sto utilizzando, perché ovviamente non penso che uno possa fare distanze tra virgolette infinite, no? Cioè ci sarà un limite dentro cui dico, ah, qua devo mettere qualcosa. I apparati ovviamente hanno un limite, quindi se tu decidi di utilizzare, ad esempio, supponi che abbia 30 dB di limite, ad esempio un apparato, proprio un valore casuale, e tu devi raggiungere, metti una città a 20 km dalla centrale, se tu introduci due splitter da 16 che ognuno a te non ha 15 dB, ovviamente non hai margine per riuscire a coprirlo, visto che comunque la fibra ottica a tenua, considerando a più o meno a tenua metti 0,21, 0,22 dB al chilometro, più ogni, ci aggiungi ogni giunzione, 0,1, ogni connettore 0,5, capisci che comunque devi capire ogni quanto hai la centrale, quindi se hai una centrale ovviamente hai 5 centrali dentro, ti faccio un esempio, Arezzo, che la mia città, se ci metti 5 centrali, la copri tranquillamente, perché magari c'ha un'area 20 km quadrati, non lo so, una cosa del genere ti basterebbe tranquillamente un pop, ovviamente se le città sono grandi come Roma, di centrali ne mettere tantissime, a meno che ovviamente non decidi di splittare poco, però meno splitti, più spendi, perché ovviamente posi molti più fibra. Ok, chiaro, chiaro, bello, bello, che è ottimo anche questo ultimo discorso finale, un po' di trade off tra tutte le caratteristiche, molto molto interessante. Ok, bene, dai, grazie mille Simone, direi che è stata una chiacchierata molto interessante su questo tema della fibra ottica e siamo andati molto in profondità, proprio sul campo da gioco della fibra ottica, a vedere proprio come si muovono i vari pezzi. Io ti ringrazio ancora e ricordo a tutti che il canale di Simone lo trovate in descrizione e soprattutto trovate in descrizione anche due suoi manuali, due corretto, esatto, a riguardo di tutto questo, in realtà a riguardo dell'utilizzo dell'OTDR, giusto? Sì. Perfetto, quindi nel caso qualcuno si sia appassionato nel corso di questa intervista di queste tematiche, trova questi libri, insomma, fatti proprio scritti da Simone, che sono anche gratuiti, se non sbaglio? Sì, sì, sono gratuiti entrambi, sì, sì. Quindi, ecco, anche quelli li trovate in descrizione nel caso foste interessati. Quindi, niente, siamo i saluti finali, grazie mille Simone. Grazie a te Stefano per l'opportunità. Perfetto, ciao a tutti. Ciao. Grazie a te Stefano.